hai un video? si un video coppila seci girati in polo in polo Lali Riccardo ma si ma vuoi ma un altro non è una foto, è un video dai Pol dimmi sei l'unica persona dai 4 anni ciao mamma ciao cosa hai? cosa hai? no falsa poi la mettiamo su Youtube ciao 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 ha detto che mi si spegne un video ma secondo te buongiorno buongiorno un video si sono censurato bambù buongiorno buongiorno anche a partietta buongiorno 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 Grazie.